Allora, professore, intanto le do ufficialmente il benvenuto, grazie di essere qui con noi, grazie di partecipare a questo ciclo di seminari che ha come tema fondamentale identità e discriminazioni. Noi siamo quest'oggi al terzo appuntamento seminariale e questi seminari fra l'altro sono validi anche come corso di formazione per gli insegnanti attraverso la piattaforma Sofia Miur, per coloro tra i docenti che hanno inteso seguire questo ciclo seminariale. Presentando il professore, anche se in realtà non ne ha molto bisogno, il professore è uno dei massimi esperti, devo dire rara Avis in Italia, di studi intorno al razzismo, ha scritto tantissimo su questo tema, a me piace ricordare in particolare uno dei primi scritti che ho reputo fondamentali, che è l'invenzione delle razze del 1998, nonostante Auschwitz del 2010, ricordavo il libro sul razzismo che è tra l'altro una sintesi molto chiara e molto utile per chi si occupa di razzismo come il sottoscritto, scritto con Gabrielli ed edito per EDS e quest'oggi abbiamo l'opportunità e il privilegio di parlare con il professore della sua ultima fatica che è critica della ragione razzista, derive a prodi. Il professore è un esperto di razzismo, ma a me piace anche ricordarlo, permettetemi come un esperto del pensiero maxista e gramsciano in particolare, quindi è un'utilissima occasione per la quale rinnovo il mio ringraziamento al professore, devo dire ai miei studenti e a coloro che ci ascoltano che quest'oggi il nostro seminario avrà un andamento diverso da quello solito, non si tratterà di un seminario classico, ma con il professore abbiamo inteso svolgerlo attraverso la modalità dell'intervista. Il professore fra l'altro ha tenuto a che io non dicessi quale fossero, quale sarebbero state le mie domande e quindi sarà del tutto spontanea questa intervista, spero di essere all'alto del compito e probabilmente possiamo cominciare questa nostra chiacchierata professore proprio spiegando il titolo che mi sembra fondamentale, lei intitola il suo bel volume Critica della ragione razzista, come mai questo titolo e cosa intendiamo ovviamente per Critica che ha una lunga tradizione filosofica come termine e come concetto. Sì, ma io ho voluto, naturalmente si può giustificare in vario modo questa scelta, diciamo anche dicendo un po' la verità sulla criptocitazione o non tanto cripto che in questo titolo è contenuta, nel senso che noi tutti sappiamo che la critica della ragione ha una storia venerabile e che il titolo è una variazione rispetto al calco kantiano e questo è ovviamente una delle ragioni se volete più futili, più esteriori ma non del tutto priva di una dimensione anche di senso e di contenuto alla quale lei faceva peraltro riferimento nella domanda e veniamo invece all'aspetto saliente e di contenuto per l'appunto. Nel titolo che ho inteso scegliere l'accento deve cadere su ragione, deve cadere su ragione perché uno dei modi per non intendere e per sottovalutare e in definitiva poi per rendere innocua la critica nei confronti del razzismo è illudersi che il razzismo sia una manifestazione di follia o di oscuramento della razionalità e della logica. Le cose non stanno così, come sappiamo, intorno al razzismo si è sviluppato un discorso, si è sviluppata una interpretazione delle identità e delle relazioni all'interno delle società e tra le diverse comunità nazionali e culturali ed è quindi di questa razionalità, certo una razionalità perversa, una razionalità distruttiva, una razionalità che va appunto criticata e possibilmente sradicata, ma è di questa razionalità che dobbiamo farci carico e non invece imboccare quella scorciatoia fine a se stessa e in definitiva poi effettivamente fuorviante secondo cui possiamo liquidare il razzismo semplicemente bollandolo come una manifestazione di sottocultura o di addirittura controsenso o di non senso. Le cose stanno, come sappiamo, molto diversamente ed è proprio perché stanno diversamente che il razzismo poi riesce a esercitare un'egemonia, riesce a costruire ideologie, culture e in definitiva poi mobilitazioni di massa. Quindi bisogna farsi carico della sua pur perversa razionalità. Molte grazie, questo ovviamente già pone dei confini molto netti rispetto a altre spiegazioni del razzismo che ne fanno un fenomeno totalmente irrazionale e comunque radicato esclusivamente in passioni o impulsioni per utilizzare un termine freudiano. Lei all'interno del suo volume parla di un fenomeno storico, un fenomeno umano che ha una sua specifica forma discorsiva e a questa specificità lei attribuisce delle caratteristiche molto precise, la organizzazione olistica, essenzialistica, il riduzionismo e anche la tendenza al fissismo relativamente a un gruppo umano chiamato razza. Sono tutti concetti tuttorsi elaborati che lei in maniera veramente grandiosa spiega con grande facilità anche al più ignorante in filosofia, anche a colui che ignora le categorie filosofiche, però a me premerebbe che potesse fare brevemente una breve spiegazione di questi concetti, di olismo, essenzialismo e anche fissismo, perché secondo me sono capitali per poter comprendere poi il resto del suo lavoro. Sì, allora intanto è molto importante quello che lei ricordava prima, cioè questa stereotipizzazione e questa costruzione logica genera la razza. Allora la prima cosa che va messa in chiaro subito è che la razza è un prodotto del razzismo, la razza nasce all'interno e a seguito della costruzione discorsiva razzista e questo va chiarito come presupposto di ogni critica possibile, qualsiasi indulgenza che noi si possa avere rispetto ad una qualche autonomia ontologica, per così dire, delle razze rispetto al razzismo, implica già una concessione rovinosa alla presunta veridicità del discorso razzista. Cioè nel momento stesso in cui si accettasse che il razzismo, il discorso razzista è solo attiva interpretazione della differenza razziale, aggettivo che io credo dovremmo abolire dal nostro lessico, proprio perché implica il riconoscimento dell'esistenza delle razze, dell'esistenza delle razze come dato di realtà, laddove, insisto, la razza esiste solo all'interno del discorso razzista e a seguito di una concessione di veridicità a questo discorso. Ecco già questa prima concessione in chiaro se esiste ed esclusivamente in quanto produzione simbolica, ideologica, discorsiva del discorso razzista. Stiamo parlando di una entità simbolica esattamente come, faccio questo esempio per renderci subito chiaro il discorso, le streghe. Quando si immaginava esistessero le streghe, cosa che ovviamente noi tutti sappiamo falsa, si poteva parlare delle streghe come di un dato di realtà. Quando si guadagna la consapevolezza che le streghe esistono soltanto dentro una immaginazione, dentro una rappresentazione fondata sulle superstizioni e sulle ragioni appunto di una interpretazione storicamente determinata e confutata dalla analisi scientifica abbiamo conquistato la consapevolezza che di streghe si può parlare soltanto all'interno di un contesto discorsivo storicamente determinato. Ecco quello che noi dobbiamo conseguire è la consapevolezza che così come per le streghe, così per le razze stiamo parlando di un ente simbolico generato all'interno di un discorso generato all'interno di una formazione discorsiva generato come? E qui vengo all'altra parte della sua domanda generato attraverso una una procedura logica attraverso una modalità discorsiva ben precisa che può essere io credo schematizzata attraverso i termini che lei ricordava cioè le razze nascono dentro il discorso razzista attraverso un processo di generazione di costituzione di stereotipi cioè di immagini acquisite stilizzate e definite attraverso una precisa individuazione di alcuni connotati salienti di alcuni connotati caratterizzanti e questa produzione di stereotipi deve perché le razze prendano forma e abbiano poi svolgano possano svolgere la funzione alle quali sono deputate questi stereotipi devono avere talune caratteristiche poiché ove non le avessero tali stereotipi non sarebbero per così dire all'altezza del compito quali sono queste caratteristiche ecco lei le ricordava l'olismo il fissismo il riduzionismo l'essenzialismo naturalmente quando si prova a definire le caratteristiche di un quadro discorsivo lo si fa attraverso lo studio dei testi cioè ci si misura con un corpus appunto dicevo prima la ragione razzista la ragione razzista si è depositata in un corpus testuale formidabile e notato bene non soltanto di testi ehm formalmente consacrati al discorso razzista ma un corpus ehm estremamente vasto perché le pagine di cui questo corpus eh eh da cui è costituito sono anche le pagine consegnate dentro la letteratura dentro la filosofia dentro eh i testi giuridici eh cioè voglio dire un un corpus frastagliato disperso estremamente articolato e stratificato ora lo studio di questo corpus la cui interezza ovviamente sfugge a qualsiasi studioso individuale per fortuna ci possiamo avvalere anche di una storiografia a questo riguardo consegnano alcune caratteristiche ehm eh di questi stereotipi e le 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 vado commentando eh molto brevemente secondo quanto lei mi chiede allora ehm l'olismo beh la prima cosa da considerare è che le razze che nascono nella misura in cui chi ne parla ehm descrive un nesso tra il corpo il soma diciamo il fenotipo cioè l'elemento che noi vediamo quando immaginiamo un corpo e lo ascriviamo ad una razza questo elemento esteriore e l'elemento invece dell'interiorità dell'identità ehm personale l'elemento della diciamo dell'anima o dello spirito corrispondente a questo corpo cioè la razza nasce quando eh il discorso che la genera ehm ruota intorno ad una immaginaria ovviamente eh pretesa ovviamente corrispondenza tra il corpo della razza e l'anima della razza se non c'è questo se si parla esclusivamente di un corpo ma mai si parla in realtà esclusivamente di un corpo il discorso non è in grado di produrre una razza perché dico che non si parla mai esclusivamente di un corpo perché il corpo ha un valore come segno di qualcosa ehm a noi non interessa il colore della pelle a noi interessa il colore della pelle in quanto indizio di una determinata identità di una determinata caratteristica dello spirito dell'anima della mente e quindi si dirà a quel corpo corrisponde una individualità che ha queste propensioni queste caratteristiche e questi limiti quindi in primo luogo corpo e anima si debbono rimandare l'uno all'altro debbono essere considerati e predicati come l'uno corrispondente all'altro fissismo nel senso che queste questi stereotipi debbono essere articolati e rappresentati come durevoli nel tempo cioè si deve affermare che di generazione in generazione nel corso del tempo quelle caratteristiche rimangono identiche non mutano permangono e questo è necessario al discorso razzista perché il discorso razzista ha anche una dimensione storica si deve poter richiamare il passato e si deve poter predire il futuro in costanza di quelle presunte caratteristiche della razza e questo è l'essenzialismo per l'appunto cioè si individuano alcune categorie che connotano che caratterizzano che costituiscono ciò che ciò che effettivamente è saliente in relazione all'identità della razza stessa e da ultimo il riduzionismo cioè si deve poter dire che quell'individuo è rappresentante di tutto il gruppo perché il gruppo è identico rispetto alle categorie essenziali sicché ciascun individuo si possa di volta in volta voler prendere in considerazione qualsiasi individuo si abbia di fronte o si stia descrivendo o criticando è sufficiente per poter pronunciare un giudizio di valore valido per l'intero gruppo a cui questo individuo è ascritto non c'è una variazione significativa non contano gli individui conta semplicemente quello stereotipo lì assumendo che quel gruppo è in definitiva compatto omogeneo monolitico per cui è sufficiente avere conosciuto un individuo con quelle caratteristiche per poter parlare di tutti quegli individui e naturalmente discriminarli o perseguitarli grazie molto questo è molto utile anche in relazione alle elezioni di quest'anno perché stiamo svolgendo un corso sul razzismo italiano attraverso due figure soprattutto e abbiamo voluto scegliere un socialista un positivista come Lombroso e invece uno spiritualista nel solco del romanticismo insomma a suo modo nel solco del romanticismo come Julius Sevola i quali entrambi utilizzano in maniera ovviamente diversa quello che abbiamo definito a lezione un parallelismo fisico-psichico abbiamo voluto utilizzare questa nomenclatura prima il fisico e poi lo psichico perché il Soma come lei spiegava chiaramente prima in realtà è un segno del tipo dell'anima della psiche insomma di tutto quello che può conseguire diciamo che è la porta d'accesso ecco sì sì siamo siamo della stessa opinione devo dire anche in questo e un altro secondo me un altro passaggio molto importante del suo libro che reputo sia centrale nell'argomentazione che lei dà del fenomeno razzista come un fenomeno di razionalizzazione mi permetto di dire è quello legato al concetto di modernità questo secondo me è un concetto che intanto va va ben spiegato ai nostri ai nostri studenti e anche a chi ci ascolta per il seminario e mi limito insomma prima a farle questa domanda e poi a farle delle possibili osservazioni vorrei intanto che lei ci spiegasse in che senso è un fenomeno della modernità e cosa intendiamo per modernità non mi vedrà per un secondo perché sto mettendo la spina al computer perché mi dice che non è attaccato va bene dunque la domanda che cosa sia la modernità è una domanda come dire molto insidiosa perché mi spingerebbe ad avventurarmi in una risposta che rischia di tediare tutti gli ascoltatori cioè tutti gli studenti rischia di come dire di costringermi ad arrampicarmi in una analisi astratta e inevitabilmente un po' un po' gravosa riduco al minimo questo rischio dicendo questo per modernità che naturalmente è una convenzione delle nostre periodizzazioni e delle nostre interpretazioni della storia e delle sue epoche e caratteristiche evolutive per modernità normalmente io credo che noi si intenda un insieme di processi il più importante dei quali è la dinamica di individualizzazione cioè la storica del quale la soggettività cioè questa questo spazio della consapevolezza e dell'azione consapevole dei propri fini dell'azione libera e consapevole dei propri fini ecco questo spazio si declina in relazione agli ai singoli agli individui e tendenzialmente in in una forma universalistica quando devo spiegare ai miei studenti appunto che cosa si intende normalmente per modernità faccio sempre riferimento a quella a quella a quell'enunciato contenuto nelle lezioni hegeliane sulla filosofia della storia in cui hegel dice beh che cosa che cosa che cosa distingue essenzialmente le diverse società storiche nel corso del tempo il fatto che nell'antichità uno solo un solo individuo si sapeva libero nell'età di mezzo alcuni individui si sapevano liberi quindi da uno ad alcuni nel mondo moderno tutti gli individui si sanno liberi quindi diciamo che per modernità può essere non solo comodo e utile che ci Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Adam Smith. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.